Pensierino La Volpe Dalla raccolta di pensierini di Paolo Luporini 15 più 15 Presto nelle librerie Liberi Tutti e La Scolastica La Volpe 25 gennaio 2023 Non so se è un sogno o un ricordo. Questa mattina rivedo una strada di curve e margini rischiosi. Io alla guida sfrecciavo evitandoli, tenendomi al centro. Strada stretta non c'era posto per due che si incrociassero e di notte vedemmo due occhi rossi, enormi, al centro della strada, Inchiodati col muso sul parabrezza, gli abbaglianti centravano la retina rossa di sangue di un diavolo, un gremlin, che ci pietrificava. Per un istante lunghissimo resistete ai nostri sguardi, intimandoci un arresto. Altri quattro occhi rossi sfilarono da destra a sinistra e i sei occhi si tuffarono nell'abisso sottostrada. Una volpe mamma con due sue cuccioli, in un passaggio pedonale naturale, non implorato, ma imposto con uno sguardo ipnotizzante di una volontà animale, forte della forza di Ananche, la necessità, che ferma una corsa in una notte di tenebra di giovani ignari delle altezze, di responsabilità e fato.